Il ritratto di gruppo. Als, infatti, fu il promotore del ritratto di gruppo, che coinvolge tutti i personaggi, mettendoli in posa come in una foto di gruppo antelitteram. Tuttavia, la sensazione che si prova, entrando al RISC Museum de Amsterdam, quando si è costretti, visto che ci si passa davanti, a paragonare le opere di altri artisti secenteschi che riprendevano i componenti delle varie compagnie militari con la ronda di notte di Rembrandt. È come se si avvicinassero delle foto realizzate in studio con tanto di fondale e di riflettori, con una bellissima istantanea. Il capolavoro di Rembrandt pulsa di vita, i bambini corrono, gli archibugi sbirciano in lontananza, i soldati vociano, la gente guarda incuriosita, e il capitano Franz Barningcock sta lì piantato in mezzo col braccio teso, a presentare la compagnia che il suo logotenente William Van Rittenburg, con il bianco cappello piumato e la splendida gorgiera decorata, è pregato di mettere in riga. Le altre opere paiono immagini smorte di persone che quasi non hanno anima, tanto è evidente l'artificio della posa e la sua premeditazione. Rembrandt, infatti, rivoluzionò l'idea del ritratto di gruppo, restituendo a ciascuno il suo ruolo reale, senza mortificarlo dietro un tavolo con la bandiera per il momento solenne del Brindisi. Eppure, anche Rembrandt ha affrontato il tema delle persone collocate intorno a un tavolo, ma, come al solito, la soluzione proposta è di ben diverso livello. Si pensi ai sindaci dell'arte e della lana, che vollero farsi ritrarre dall'artista affinché la loro grida, quella dei drapperi, che di norma documentava le pattesse dei propri amministratori, con questa commissione dimostrasse il proprio prestigio. Bene, cosa avrebbe fatto qualsiasi altro pittore se non mettere i sindaci seduti uno accanto all'altro e ritrarli con le insegne adatte a qualche scritta per definire ruoli e competenze? Rembrandt, invece, affida alle mosse e agli atteggiamenti il compito di svelare rispettivamente i ruoli senza bisogno di didascalie. L'artista ci fa entrare nel bel mezzo di una riunione di lavoro. I sindaci, nella loro ricca sede, stanno discutendo del controllo dei tessuti. Così procedono all'esame dei campioni di stoffa tenuti in mano, forse da Jacob Van Loon, seduto all'estrema destra del gruppo. Sul tavolo è aperto il libro della valutazione e tutti sono intenti a discutere. E poi arriviamo noi a disturbare. Sono cose delicate e non si entra senza bussare. Allora tutti si fermano. Anzi, qualcuno si alza e un po' indispettito fa per venirci incontro con aria inquisitoria. Si crea un tempo sospeso che è quello di un'istantanea fotografica che ha colto tutti di sorpresa. La genialità di Rembrandt, in questo caso, è tutta qui e non è poco perché, voltandoci indietro, non facciamo fatica a vedere quanta strada sia stata percorsa dalle rigidità del primo rinascimento. Adesso gli uomini dei ritratti per poco non escono dai quadri.